Io ringrazio Don Carlo per aver provveduto alla benedizione di questi 15, come l'ha chiamato lui, bucchè di palme. Questi 15 bucchè saranno distribuiti in 15 piazze e frazioni della nostra città, perché domani tutti non sentano la mancanza della vicinanza di questo sembolo e di questo segno, perché sia un simbolo, di solito la palma viene solo vista come un simbolo di pace, noi domani vogliamo dare anche un altro simbolo, un simbolo di speranza, perché è vero che inizia la settimana santa, che è la settimana più triste nella storia cristiana, ma è anche, soprattutto, la nostra speranza ed era importante dare questo messaggio, perché la città abbia speranza, perché finalmente qualche notizia positiva sta emergendo. Quindi ringrazio tutti i nostri concittadini che domani troveranno, da domani in poi, questi bucchè, quindi passando, facendo la spesa, li guarderanno e sapranno che è un simbolo per tutta la città. Nessuno escluso, tutti e 15 quartieri e le frazioni. Grazie.